Fra Kylian Mbappé, il PSG ed il Real Madrid spunta anche il Bitonto. Pensate sia uno scherzo? Bene, avete ragione, ma più che uno scherzo parliamo di un curioso siparietto messo in piedi dal social media manager Neroverde per sollecitare i sostenitori del Bitonto a sottoscrivere l'abbonamento in vista della stagione 2023-2024. L'accordo, seppur comico e piuttosto chiaro, Mbappé firma solo quando e se verrà raggiunta quota 300 abbonati, un post ironico che ha comunque smosso la tifoseria Neroverde al momento realmente in attesa di un nuovo colpo in entrata. Negli ultimi giorni sono stati resi noti gli innesti di Mazzarano e Alba, così come anche le conferme di Tangorre e Gianfreda. Al momento, in attacco per Mbappé, ci sarebbe ben poco spazio, vista la presenza di Anaclerio, Tedesco, Mariano e Figliolia, ma non si esclude, scherzi a parte, l'arrivo di un'altra punta. Tornando a parlare della campagna abbonamenti, anche il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha voluto lanciare un segnale breve e coinciso alla piazza Neroverde. Bitontini, Bitontine, vi chiedo una cortesia. Chattaffa un abbonamento a Votonde.